ciao ragazzi ed eccoci qua di nuovo con voi il vostro volpe oggi siamo di nuovo su un capture allora l'ultima volta avevamo allora avevamo la nostra amica la nuova allora ok adesso andiamo a fare l'evento che livello siamo 11 12 11 13 andiamo a farmare un pochetto se no sono poco livello abbiamo poco livello ecco si è trasformato tema casa avete si è trasformato ecco cosa ancora oh 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 ok 12 bene andiamo via prima che ci prendono anche altri no abbiamo già una k o e l'altra con minima vita ahimè ok possiamo ritornare tengo prender tutelita mi sembra qua ok andiamo di qua adesso andiamo prenderà ok ancora più tanto qua non c'è più niente con il nuovo vestitino andiamo a prendersi altri items qua i punti e domande e poi andremo via per il momento non possiamo ancora a competere non possiamo avere qualcuno siamo un pochettino ancora troppo deboli ok adesso qua di nuovo so che c'è l'evento la ragazzi però andremo a fare più avanti vieni qua fiorellino e muori ok 107 abbiamo l'item e qua fiorellino solo uno allora mille sette mille mille gli altri 57 ci parliamo a questo qua vieni qua tu non arrivo non arrivo ah ok livello 12 ok benissimo siamo quasi tutti a livello 12 tranne che lei l'utri l'utria che nome strano però ma stesso allora andiamo qua andiamo a prendere un altro punto di domanda qua un altro punto di domanda qua niente niente da completato no no tutto completato ok qua qua tutto completato bene qua non c'è niente accessori non dovrebbe esserci niente spizzo il naso ok qua niente ok non ce l'ho tutto completato te la via vieni qua Ciao Fiorellino Vieni qua Te proprio Prima che diventi Fiore Naro Ok Ok Te la vediamo Andiamo a fare un altro Faccio giurata qua No, non volevo, a niente Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Quanto siamo mati 1000, 1000 Ok Vieni qua 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 Livello 12 Livello 12 Ok Ci saluteriamo anche per questa puntata Su Neptune 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 Ciao Comunque No, non voglio fare nessun combattimento Devo andare via Ho detto da nuovo Grazie Ho detto da nuovo Grazie Ok Ragazzi No ci sentiamo a un altro appuntamento sempre sul canale E niente Ciao a tutti ragazzi Ciao Sì Una zona